Allora due parole poi vi passo, scusate, scusate, grazie, allora poi vi passo all'allenatore, sono qui a presentare, voglio sempre presentare il che è Federico Rovico, non uscite bene, ma è Brassi, diciamo, presentare il nuovo allenatore. Abbiamo cambiato vita tecnica, la cosa non è che mi piace, ma dolore, perché al viaggio di quello che può essere, la polvisita è anche la sostanza, uno lavora con una persona, si affeziona, si ha rispetto, Bertotto è una bravissima persona, merita rispetto, solamente che purtroppo i risultati non hanno dato ragione, non parlo tanto di risultati a livello di punti, perché ne abbiamo 15, non sono pochi, quanto piuttosto la squadra che recentemente ha preso una china che a me non piaceva, una china pericolosa, ho notato un'involuzione in campo che, secondo me, mi ha portato poco lontano, uno deve intervenire, provo a intervenire, sperando di fare bene, momenti in cui vede qualcosa che non va, non quando si ha, uno fa l'operanza prima che muore, no? Una squadra che ha di molti che ha fatto, secondo me, troppo dolce, troppo, 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 troppo leggera, troppo, rispecchiamo, troppo narcisista, per dirla molto, molto, chiaramente. La Serie C si fa in maniera diversa, palla per aria, io l'ho fatta, l'ho vinto, ho fatto, io in C in tre anni ho fatto due otti pre-off, una volta l'ho vinta, erano due otti pre-off, anche se da ottavi, c'è un atteggiamento diverso, no? Domenica, qui l'ho fatto un mezzo tiro, un gol su un calcio ad angolo, con quel parametro, il palazzo ne ha fatti 5, perché ha messo 5-4 l'uomo davanti al portiere, ecco, ecco, poca attenzione difensiva, poca grinta dei ragazzi, io ci ho parlato, è bene che i cambiano l'atteggiamento, si svegliano, no? Filippo, l'ho richiamato perché ci sono stati sempre un buon rapporto, credo che uno si lascia, si rincontra e quant'altro, il calcio è così, perché dalle volte uno va male, va bene, secondo tante componenti, io lo dico sempre, io manderei allegri oggi, dicendo che uno è del meglio del mondo, secondo me no, però a Grosseto, 9 partite, 9 punti, il mondo è a 23, il quiz è a 22, vende con il culetto e vince col campionato, poi il culetto è una più allerada, per cui dalle volte c'è da fare pure quella chimica, quella alchimia, qualche cosa che permetta di fare i vari risultati. Io personalmente mi piace fare risultati, perlomeno me la fastidio perde, però perde in quella maniera non mi piace, ossia perché una cosa mi ha dato fastidio, dopo il gol d'ora abbiamo un quarto d'ora, non ho visto la rabbia, ho visto la reazione, questa è una squadra che in tre domeniche ha preso una munizione, l'ha presa Paciardi a Grosseto per buttare la palla dopo il fisco, per cui manca qualche cosa, la rosa è abbondante, tu non far fallo quando serve, tu stessi quando servono, e si, e si, e si, e si, altro a dire, altro a dire, non c'ho, ne passo novi, io esso, perché si fanno due domande, si prego, la prima ho letto su un sito che questa è stata una scelta fatta in ottica futura, in ottica futura, così ha scritto un sito, l'ho spiegato poco anzi, in ottica futura, uno vuol dire che, no, 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 non hai capito, in ottica futura che vuol dire, se devo guardare in base ai punti fatti, siamo terzo, a parte che la sigla apporta 15 punti, non c'era problema, in ottica futura perché la squadra che ho visto poteva perdere aperto con Giana, poteva perdere in casa con il proprio centro di rosa, poi lo sottomenico, poteva perdere del partito in casa, vuol dire che qualcosa non andava, è stata l'involuzione, poi almeno la prima cosa non andava bene, siamo l'unica squadra, in serie in cibo, ma adesso ho messo le statistiche, che hanno giocato tutti, fuori che uno, tutti hanno giocato, chi in tempo, chi in tempo, chi in tre partiti alla partita, e non è la sigla, qui la gente va consentata, a un certo punto, mi disse altasera un tecnico, Galdirini per caso, posso dire, come lo disse, quando andai a Verona, c'era Magnoli, il grande allenatore, gli piace trovare lo spogliatoio, undici nomini, questo titolare, undici, riservi, prima di ritiro, qui non c'era, undici riserve, questi devo pensare a mantenersi il posto, e poi gli altri a guadagnarlo, il calcio è questo, il calcio è questo, non può esiste un buonismo totale, no? Io quando ero ragazzo, un bravo pallone, ero in collegio, mi diceva, prete, devi giocare pure per loro, è buono, però ti dice, l'importante è giocare il parametro è quello, lui fa le sue scelte, come l'ha sempre fatta, vediamo che riesce a immettere nella squadra quella rapida, quelle motivazioni che sono mancate, troppo belli, colpi di tacco, usci in palla a piedi, tante belle cose, fai il gol, può darti, però dieci volte su undici non va bene, poi vediamo che succede, sia una rosa abbondante, completa, poi se qualcuno lo rientra nei piani tecnici, per motivi comportamentali, per motivi di vinta, per motivi di quello che gli fare, guarda a giornale, va a casa e trova qualcun altro, l'ultima è sul settore giovanile, che ho saputo che c'è stata una bella rivoluzione, il settore giovanile c'è un problema, io non l'ho mai fatta a Biderbo, lo scolto l'ha fatto Corinti, per me l'ha fatto bene, poi quest'anno è successo, è avuto di via, di via, tutta quella barba, in compagnia bella, io vi tervelo, se non aspetta ti dico tutto, però facciamo una partita lontana, non ti lascio in cura, siamo partiti tardi, questo e quant'altro, avevamo problemi di altro genere, io vi tervelo, l'estamento è riduto, poi non ce l'ho data perché avevano altrui parti, avevano altrui parti con me, poi avevano mantenuti con chi mi va dopo, non pagavamo nessuno, facciamo un video, in realtà direi che un soldo è una di venti di costa di oggi che sono me, e se non gli ho detto che sono la luce di città, gli ho detto che odiamo a questa gente, dormiamo in questa gente, una qualità di ideale, mi sembra, che è stato così, controllo, mi sono male con Carimbani, non c'è anche il terzo che serve, con l'Italia è il futuro, come dice così, e l'hanno preso loro, devo dargli perlomeno tranquillità, invece non me l'hanno data, per cui i soldi li spendiamo tanto, spendiamo in altri luoghi, per cui ci stiamo riapproversi tutte le giovaniche, lo facciamo diventamente, però, però, mi mancano le strutture, io sono stato col Bicchia e sindaco, con l'assessore, mi sono vergognato, non mi sono vergognato, non mi sono vergognato, non mi sono vergognato, non mi sono vergognato, perché i ragazzi la polvere è alta, non è, non si è alta, aspetta, quella recinzione con quei ferni, fracini e compagni a terra, quel muretto attaccato al campo, che se uno si parte a destra, si ammazza, dopo tutto, però anche gli altri facciano dopo tutto, perché il problema non è fare squadre, anche dopo andare a giocare, non c'è l'occhio, l'attuale amministrazione, che il programma di attuale, promettono di fare un campo di sintetico, quindi, vediamo il promesso di eseguendo i rimasti, quanto è in un tosto, era in quest'ottica, questa decisione, sì, era in quest'ottica, quanto è in un tosto, quei 40 anni, in cui non sono fatto niente, a livello di, non sono gli altri sport, io sono stato a Grossedo, caspita, hanno campioni all'edica, di vela, quello e per l'altro, però c'era un po' tutto, qui è inutile che ci pigliamo in giro, il gioco del centro avanti, il gioco della punta, la gastrezzi, piuttosto gravidamente, tutte queste cazzate, qui manca, la maniera prima, mancano i campi, il settore giovanile, che io rimaneremo molto volentieri, perché, a pochettina fuori, qualche ragazzo di qui, io solamente non agliare, ne costano niente, non so fare il mercato non domani, qui mancano le strutture, io l'ho visto quel campo, lo conoscevo, ce l'ho stato giocato, come aveva vent'anni fa, con la gastrezza, a lottare al mercato, ma i ragazzi, verso le quattro, la punta è alta così, girate in Italia, non c'è altra, sembra la scampina, tutto rispetto, gli abitanti del pilastro, hanno detto, io mi sono attivato, ci ho perso tempo, per creare gli giusti contanti, giusti contanti, speriamo che la cosa, vada in porto, al di là del governo politico, perché la squadra è di tutti, io non faccio politica, perché la faccio a mio paese, non faccio politica, e ciò da ripete, qui paghiamo disastri di quarant'anni, ciò ci sono stati neri, tossi, bianchi, tutti, io non è mancato niente, come adesso, io in una palazzina ragazzino, a vedere la tribuna, a me ti dice, magari la polizia, mi dice il cazzo lo stesso, mi dicono, a quei tempi, non iscrivete queste cose, a quei tempi c'era polizia, ha voluto così, io sono sindaco, te lo faccio fare, mi pazienza, perché scusa la cosa, mi devi spiegare, quella per la tribuna, perché sta arrivata, e mette quelli di macchine, e mettele da l'altra parte, tanto giù i coppieri, e cavate, e cazzo. È una battaglia, che fu fatta alla lunga, proprio, quando sistemarono, le macchine, e la polizia. No, non è una battaglia, perché è stata proprio, una bomba domica, una battaglia non c'è stata, perché la dobbiamo lanciare, la comodità, se devo partire di corsa, con il primo bilancio sul Girono, siamo a un quarto del campionato, quindi già qualche cosetta è venuta fuori. Secondo me, è il giuro più difficile, dei tre che ne dicono, A, B, C, il giuro è anche un difficile, c'è le toscane, che per tradizione, sono organizzate, organizzate, c'è le vie montesi, quant'altro, il giuro più facile, a me quest'anno, è il giro è B, perché le vada, manca al Pagno, manca al Venetti, e qui manca nessuno, con tutti, c'è Livorno, c'è il Piede Più d'anno scorso, c'è l'Alessandria, c'è il Piacenza, Arezzo, tutte le società, che a differenza, una volta, hanno fatto, la storia del calcio, hanno fatto la via, hanno fatto l'ala, questo a Iersi, quasi tutte, se ne vediamo volanti, si era, la domenica, gioievo in notturna, tutti, dopo lì di Gavorano, che non ho capito, che c'entra, 6 e 5, e questa è un'altra, discrazia del calcio, per una volta, c'era la C2, la D, la C2, oggi, di come i gironi, di li fanno a cacchio, perché il girono e il gavorano, è l'elicolo, che ha vinto, due anni fa, il nostro era Tosto, c'era il Grosseto, c'era la Vida Ilvese, c'era Niedi, c'erano le Romane, la Balunga, c'erano le Sardi, la Zaghera, che ora era giocata, con la Passese, non andava avanti, poi con le Ligure, non so, ma sta di forma, che se ne parla, le fanno a B2, per esempio, no, la C2, no, di quale, no, la B2, non la fanno, 40 squadre, no, il discorso è diverso, che dice da vecchio, eh, lo so, dico tante cose, praticamente, la C, la C non la fatta finire, perché la C non c'è presenza, niente, il nazista, no, praticamente vorrebbero, che farebbero anche il giusto, però non ci riusciranno, secondo me, portare la Serie A, a 18 squadre, la Serie B, a 18, 18, 18, 20, lo so, e la C, fanno i gironi, da 18, da 20, poi, qua, la Serie D, Elite, che è la specie, di semi, professionistico, per cui, una squadra, può dare, dalla D, alla C1, qui, ti trovi, la squadra, dalla D, ma in C1, e che volta? Io l'ho fatta, la D, non fin, ho trovato la C2, che era tolto, non me lo offre, poi, io, il PC2, trova la Fiorentina, pensa un po', però, si parla alla D, di, 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 nel senso, di fare questa B2, perché, dipendeva dalla Lega, no, fanno la C, non fanno la B2, no, no, il discorso di fondo, Alberto, vedi che, al di là delle chiacchiere, non le, stanno a fare disastri, fanno a fare disastri, questo segno, eh, ti do un dato, la Serie C è la categoria, che, di, 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 la squadra, che ha lavorato l'ultima, il giugno, e l'anno scorso, cominciamo, cominciamo, facciamo le penalizzazioni, sì, lo so, quello che è, ho andato avanti, però, vi posso dire, io ho fatto la B2, che era un altro mondo, mi sono i soldi, perché la Serie B, porta a casa, una squadra, la Serie B, porta a casa, circa 4,5 euro, dalla Lega, da, quindi, però portava a casa, 25.000 euro, niente, dico scusa, 2400.000 euro, e va bene, 25.000 euro, 60.000 euro, e l'ho andato, il pro si incazza, la Serie C, paghiamo le iscrizioni, 60.000 euro, una squadra, più quelli, sargono di 100, incazza 4.000.000 di iscrizioni, c'hanno una struttura alefantia, che sembra, qualche intento, purtroppo è così, il calcio, poi vi lascio, c'ha solamente, un grosso difetto, un grosso, che il calcio soldi, non combattono, se tu vai al mercato, almeno, se hai più 100 persone, e vedi 10 voglioni come me, e un 20, poi, a livello, non c'è mai d'attorno, avvocati, consulenti, una, due, presidenti, che fanno il suo lavoro, e quant'altro, poi, c'è una cosa, che devi far rimettere, che sono le scommesse, adesso, mancate gli atti, scommetteva anche il bici, voglio dire, niente, per la positiva, non la traccevo, no, domenica, che eravano, i delvese e Monza, vanno l'80 all'1, 3 e 20 il Dix, e 6 il vettore del Monza, per dirvi, però, andrebbero tolte, andrebbero tolte, e poi, un'altra cosa, non può scommettere, può scommettere, l'importante lo scommette, la sua squadra, ma scommette la socia, lo zio, la donna, è quello che è, ma, qual'è il problema della serie, la serie di città, non essendoci risorse, uno, però, andate, vedo di poco, uno c'ha 30 anni, che ha 25, 30 mila euro, quello, domani, possiamo lavorare anche di più, c'erano più risorse, anche il discorso, degli opere, 14, 13, c'è da rire, scioperavo, la stazione di cacciato, ma che scioperi, le scioperi in serie, in città, non c'ha nessuno, ma che sindacato, che dipendono, non lo vabbi, 8 milioni all'anno, e con gli 20 milioni all'anno, scioperasse la donna Luma, e allora, se ci sono, gli altri, e tutte le colpi, neanche niente, un anno, in serie, in b, le avevamo a scioperare, ma, dal reso, quel delinquente, non ci riesce a scioperare, perché, d'accordo con Berlusconi, non avevi l'intermedia 7, il Verto, quell'altro, e quant'altro, il calcio è finito, ma io vedo un parametro, no, scusate, ma negli anni 60, l'Inter, compro, il Sato, compro, il Suarez, il Barcellona, un po' che non c'erano in anni, compro, il Barcellona, il Suarez, 250 milioni, oggi un po' compromessi, ossia, in Italia, il calcio è finito, o vengono i cinesi, o vengono gli australiani, quello, quello, l'altro, in Coppola, in Europa, ci mettono tutti, Ventura, per me, in tecnico, scarso, ma che deve, scarso, scarso, per la nazionale, ma che deve, ma che so, sti stenti, di 40, 50 persone, ma che chiamano 50 per volta, vado proprio a vedere le partite, fatti, iniziano per i livelli, ti fa a blocchi, purtroppo, li danni a caccia, e non se ne accorge nessuno, ma vi dico una cosa, ma io una volta, tutte le partite, oggi, posso dire, proprio a Napoli, intermina, ma interrebedevento, ma che me prega, purtroppo, è così, complotore, la dalle italiane, cazzo a te, è così, è stata, è stata, è stata, c'è sempre meno gente, gli stadi, gli stadi sono scomodi, non sono comodi, lo stadi è scomodo, no? arrivarci, può essere, i tornelli, la cosa, i bip, e meno male che hanno fatto, ad essere attiposo, adesso, io non ce l'ho mai, perché sono solo un trasse, però, è più facile, è lo scopo, vabbè, me la solviste, ve lo chiederò una cosa, a Piero, io mi aspettavo, chiaramente, un'altra persona, onofri, onofri, perché, se è stato, mandato via, se è stato, non riconfermato, l'altra volta, va bene, le parole sono, però non c'era più, l'italiano permette talmente tante parole, che poi, ti può intrigare, però, quello che mi chiedo, Piero, Camigli l'ha, non riconfermato, adesso viene richiamato, allora, quello che, quello che io, voglio finire, scusa Piero, quello che io chiedo, in che cosa è migliorato oggi, onofri, onofri, perché Piero Camigli, l'ha richiamato, era stato un errore prima, mandarlo via, oppure oggi, si è maturato in maniera diversa, noofri, si è presentato in maniera diversa, perché Piero Camigli, l'ha riscelto, che, con tutto il piacere, perché, a noi è piaciuto, noofri, al suo tempo. C'è una cosa, quante volte hai pentito, venite con qualche femmina, io sono pentito, ti sei? Mi sono pentito, pentito, è bene, quante volte lasci una, con fatto, no, è bello sentirsi, è bello, è bello sentirsi, dire che uno si è pentito, perché, sicuramente, noofri male, perché se poi, per me ti fa parte, di scelte, anche in Italia, allo scorso, in certo punto, abbiamo dovuto un colturo, di fare una certa cosa, abbiamo fatto un buon campionato, quindi ho fatto un'altra strada, però, un rapporto di fatto sempre, diciamo, si parlava, pure parlato, quest'estate, qualche volta, accompagna bene, momenti in cui abbiamo deciso, di cambiare, ad ora, io dobbiamo, coraggiare, per essere onesti, abbiamo fatto delle condazioni, l'abbiamo resi 1, 2, 3, io mattina, esermente, e ho scelto lui, perché alla sera, non mi vergogno a dirlo, ho parlato con lui, alle 3 e mezza, ho parlato alle 8, come si chiama, con Brina, e alle 9 e mezza, con, 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 qualcun altro, perché mi ha chiamato, mezza Italia, perciò, cattivo, cattivo, ci vengono tutti, però, alla fine, ho fatto, i miei giunti, rotazioni, che non te lo spiega qui, ho parlato con, tre ottimi, tecnici, che praticamente, ne avevano resi, tutti e tre, sono, lavoratevi a loro, con, sento lui, perché, perché lo conosco, e per me, è basilare, in questo momento, la rapida, che lui ha, ho cercato, un tecno caratteriale, perché, io, mi so, finì, mi sono rotto le palle, tre, quattro, due, tre, cinque, uno, di ventaccotato, dodi, e dei cambi, no? Uno può fare, i cinque cambi, è il sistema per dare, agli allenatori, in potenza, di contentare un po' tutti, no? I cambi, mi vanno fatti, uno non sta male, oppure, a partire domenica, devi, devi, addirizzarla, mettendo una punta, due punte, non è che, il cambio è qualcosa, di statutare, questo che abbiamo, per forza, tutti i giocatori, nell'intervallo, nell'intervallo, e così sfrutto, e faccio tre, invece che quattro, manco, manco bene il calo, invece al calcio, una volta, mettevo il tessino all'ala, con lo sanzo pavano, e lo siano, facendo il tessino all'ala, perciò, è quello che è. Comunque, la grande affermazione, che ti sei innamorato di Inofri, insomma, è una bella rivelazione, nel senso simpatico, della battuta, no, ci mancherebbe, no, sto scherzando, però è chiaro che, fa delle scelte, fa delle scelte, ogni giorno, può darti uno sbagliato, io sono confinto, quindi se perde adesso, durante due partite, fuori? non lo caccio, all'ottorso, non mi fanno incantare, all'ottorso, no, farlo sta tranquillo, Borracchini ha fatto, 8 partite, un punto, è lo stesso, per esempio, Bagnari, 6 sconfitti, per dire, con noi non Bagnari, no, Bagnari l'ha fatto, Bagnari, conti l'ha fatto, c'è un altro problema, è, perché Borracchini, a un certo punto, le c'è un altro partite, il punto, le potevo più, la fine, fosse sostituito, ma, l'ho detto poco, anzi, è la chimica, l'antimia, tante cose, fatto, allora, il Prato ha messo, dopo 5 volte, avanti alla porta, e non ha fatto gole, quelli senza messo, sono fatto gole, perciò il calcio è questo, la palla che è rotta, la compagna Bagnari, ma il discorso, non sullo specifico, il gol è fatto, o meno, quanto sul comportamento, in generale, e piace vedere, di pensione, ma lo saltare l'attaccante, piace qualche bel fallo, qualche, invece, qui mi sembrava, io quando vedo, entra a campo, sta squadra, dico, se vanno a posto, ci vedono tutti, perché sono troppo, troppo signorini, forse una squadra, sbagliata per la categoria, il tempo, non si dice, non si è dato, comunque, siccome sono abituato, a fare squadre, no forti, beh, le squadre, ho fatto sempre forti, alla fine, e se qualcosa va bene, l'altro giorno, ho parlato con i ragazzi, ho detto, gli ho dimostrati, non è che io, oppure a mettere due leggi da campo, così, come sfortuni, non sento che lo sento, per cui, non è che, mi dà un problema, non si comporta bene, oppure, non si comporta bene, è che, può succedere tanto, per quanto qualcosa manca, essenzialmente, manca la gritta, la rabbia, che, sembrava, come dicevo, un amico, come la, l'azienda, muore il padre, era un pirata, gli vengono 8-9 fiorelli, lì, bravi, che non ci aveva fatto il botto, per cui, cambiamo, ok? Va bene, grazie, grazie, molto sbagliato, quando ho fatto l'anno scorso, è stato uno dei pochi, a non essere suonerati, no, assolutamente, pensare, l'unico, no, lui, ha fatto, sei partito, i violi, i violi, i violi, i carri, c'ha avuto, lo stesso, io parlo della nostra, bravi storia, dall'incendenza, non sembra l'unico, che non prestano, lui, è che le cose, ne sbaglio, Gregori, mi chiamano tutte le settimane, e poi rimane anche, amicizia, anche a mio avanti, sono rimasto amico, ma scusate la cosa, ma se uno vuole bisogno, ma chiede pazienza, amica del matrimonio, prima cosa, non ce l'ha, non lo paghiamo comunque, può darsi che sbaglierò, però io ho il calcio, l'ho cambiato, però ho quinto tanto, ma te mi sono unito molto, io ho il 95, ero il secondo, le due grotte di caso, mi sono la seconda, io un pocciolo in eccellenza, la serie C2, la serie C1, non ho fatto quell'office, io ripinto la direttata, che cazzo dovrà? Ma poi, portami, dai, da te la fai, a sicuro, quello è sicuro, è questa cosa, la volta, la volta che sta a lui, io vi caccio solo, perché, buonasera a tutti, grazie, buonasera, 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 buonasera,